Un saluto dal Tg della mobilità dopo i lavori di riqualificazione completa della Galleria Giovanni XXIII proseguono gli interventi di manutenzione per potenziare la sicurezza e sostituire alcuni dispositivi di sicurezza danneggiati dagli incidenti stradali. Nelle notti dall'11 e 12 dicembre dalle 22 alle 6 la Galleria sarà chiusa completamente e interdetta al traffico nei due sensi di marcia per interventi di sostituzione e installazione di nuovi servizi tecnici. Sarà predisposta la segnaletica stradale provvisoria da parte dell'impresa che seguirà gli interventi e comunicata la chiusura della Galleria con i pannelli a messaggio variabile. Per ora è tutto appuntamento alla prossima edizione.